Ciao a tutti amici miei e ben arrivati nel mio canale YouTube. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi qui sotto nel canale e di attivare la campanella delle notifiche. Oggi ragazzi andiamo a vedere come bisogna fare uno squat correttamente. Quindi, mi raccomando, let's go to work, non perdiamo tempo. Ciao, vieni con me. Step numero uno, ora iniziamo. Ricordati di aprire il petto e di portare lo sguardo verso l'alto per mantenere la schiena dritta. Le ginocchia devono andare verso l'esterno ed ora ci mettiamo di lato. Ricordati, petto in fuori. Ora, cosa importante, il sedere deve andare indietro, mantenendo sempre la schiena dritta. Fai attenzione a questo movimento e ricordati di non farlo. Non portare mai le ginocchia oltre le punte dei piedi. Quindi, ricorda, le ginocchia non devono superare le punte dei piedi. Ora, scendi lentamente, sguardo verso l'alto. Non ci riesci? Non ti preoccupare, prendi una sedia. Adesso, proviamo il movimento con la sedia. Allontanati quanto basta dalla sedia. Mettiti in posizione. Ed ora, devi sfiorare con il sedere la sedia e su. Ottimo. Ti facciamo. Su. Bravissimo. Ora tocca a te, mi raccomando. Grazie. I' molto più. را.